sordi. La Fiorentina non parteciperà al bando pubblico per l'area Mercafir che scadrà il prossimo 7 aprile. Ad annunciarlo il presidente Rocco Commisso con una lunga lettera diffusa dal canale ufficiale Viola Channel. Dopo un'attenta valutazione delle particolari condizioni finanziarie e contrattuali della gara pubblica d'appalto per la Mercafir, resi pubblici a febbraio, nonché dei rischi inerenti alla Fiorentina, il patron Viola ritiene che nessuna delle tre condizioni da lui a suo tempo richieste, tempi rapidi, costi ragionevoli e controllo totale del progetto di costruzione e gestione dello stadio dopo il suo completamento, sia stato soddisfatta. 12 persone tutte impiegate in strutture ricettive in quarantena domiciliare fino al 7 marzo. È quanto disposto con ordinanza dal sindaco di Chianciano Terme dopo aver ricevuto comunicazione dall'AS Toscana Sud-Est di un caso risultato positivo al coronavirus a Piacenza. Si tratta di un uomo, secondo quanto ricostruito dai sanitari, che aveva preso parte ad un festival di ballo che si è svolto dal 21 al 23 febbraio nella cittadina termale Toscana. Una volta rientrato a casa avrebbe accusato i primi sintomi e dopo essere stato sottoposto a tampone è risultato positivo al coronavirus covid-19. In seguito all'indagine sui possibili contatti sono stati presi i provvedimenti della quarantena precauzionale per il personale degli alberghi in cui si è svolto il festival e in cui ha soggiornato l'uomo. In Toscana un rimborso per le spese sostenute dal personale sanitario al lavoro per contrastare il coronavirus è costretto a coprire con babysitter l'orario scolastico del figlio. Ad annunciarlo è il presidente della regione Enrico Rossi in un post su Facebook. Purtroppo sono costretto ad annunciare la chiusura del teatro della Pergola sino alla fine della durata del decreto della presidenza del consiglio dei ministri. Lo ha detto l'assessore alla cultura del comune di Firenze Tommaso Sacchi dopo le ultime misure del governo sul coronavirus. Abbiamo valutato ha spiegato Sacchi di non poter garantire sebbene il decreto non ci imponga la chiusura la distanza interpersonale di almeno un metro. Ci sono troppi ambienti comuni. Produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti. Sono i reati contestati a sette uomini uno dei quali arrestato e gli altri sei denunciati trovati dalla polizia stradale di Pistoia in possesso di cocaine, pasticche di ecstasi e cristalli di MDMA. La stradale è intervenuta nell'area di servizio di Serravalle Nord sulla 11, chiamata da un dipendente spaventato per la presenza di diverse persone che stavano recando disturbo ad altre persone presenti. La pattuglia è arrivata sul posto mentre il gruppo, composto da cinque italiani e due stranieri, rispettivamente originari del Venezuela e dei Caraibi, ma tutti i residenti in zona, stava per ripartire a bordo di due auto. Inserimento in dichiarazione dei redditi per gli anni 2020-2021 delle spese sostenute per effettuare le vacanze in Italia e allungamento dei mesi di disoccupazione nei prossimi giorni scadenza al personale che opera nelle zone turistiche stagionali. A lanciare le due proposte per fronteggiare le conseguenze dell'emergenza coronavirus sul comparto turistico e termale è il sindaco di Chianciano Terme, con una lettera inviata al presidente del Consiglio. Si ferma per riprendere il 19 marzo, salvo ulteriori disposizioni, il processo per la bancarotta dell'ex Banca Etruria ad Arezzo. Lo ha deciso questa mattina il presidente del Consiglio del Tribunale, davanti al quale è in corso. Il motivo è legato alle misure consigliate a titolo precauzionale per l'emergenza coronavirus. L'aula, dove si svolgono le udienze, non consente di rispettare la distanza di un metro tra le persone. Il 29enne che nel pomeriggio di ieri, al termine di una lite familiare, ha ucciso in casa a Camaiore la madre di 49 anni, dopo essere stato interrogato dai carabinieri di Viareggio, si trova rinchiuso ora nel carcere di San Giorgio a Lucca con l'accusa di omicidio volontario. Il delitto, secondo quanto si apprende dagli investigatori, sarebbe scaturito da una condizione di disagio in cui il giovane viveva insieme alla madre, invalida agli arti inferiori e per questo motivo aveva una pensione di invalidità. Una società specializzata in attività di lottizzazione dei terreni connessa con l'urbanizzazione operante prevalentemente nella Val di Chiana in una sola annualità ha occultato all'erario oltre 130.000 euro, ma è stata scoperta dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Siena. Immediata la segnalazione da parte dei finanzieri alla competente Agenzia delle Entrate per le conseguenti procedure sanzionatorie e di recupero delle imposte evase. Nessuna attesa agli sportelli. Da oggi è possibile scegliere o revocare il medico di famiglia o pediatra prenotando un appuntamento. L'appuntamento è prenotabile tramite telefono utilizzando il numero unico aziendale 055 545454 attivo da lunedì a venerdì dalle 7.45 alle 18.30 e il sabato e prefestivi dalle 7.45 alle 12.30. Per ogni zona distretto dell'azienda sono stati individuati i presidi dove sarà effettuato il servizio. A disposizione 20 appuntamenti giornalieri per ogni presidio. E ora le previsioni del tempo per domani in Toscana. Piogge diffuse in nottata, tendenza a maggior variabilità nel resto della giornata con possibilità di locali rovesci o brevi temporali in particolare sulle province settentrionali. Neve in appennino oltre 1200-1300 metri di quota. Venti moderati occidentali con rinforzi su arcipelago, litorale settentrionale e crinali appenninici. Mari molto mossi o temporaneamente agitati nel Livornese. Temperature minime insensibili e aumento massime in lieve calo. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Arrivederci.